Chiedono certezze i genitori e i docenti che a Recanati si sono costituiti in un comitato dopo la decisione di spostare a rotazione 5 classi del liceo Leopardi e l'istituto Bonifazi. All'origine del trasferimento, l'aumento delle iscrizioni che hanno determinato la non capienza della storica sede di Palazzo Venieri. Così l'anno scolastico è iniziato con alcuni studenti in DAD, poi con il trasferimento delle classi nella scuola media, che per ospitare i liceali ha dovuto rinunciare ad alcuni laboratori. Da qui la disponibilità limitata fino alle vacanze natalizie. E così, alla ripresa delle lezioni, le classi del Leopardi sono state accolte negli spazi dell'istituto Bonifazi, dove resteranno fino a giugno. Poi però l'istituto vedrà l'avvio dei lavori di ristrutturazione post-sisma, da qui l'esigenza di trovare una sede alternativa. Tra le ipotesi prospettate, il trasloco in un immobile a squartabue, soluzione decentrata e poco apprezzata da docenti e genitori. C'è anche un'altra soluzione, che è un immobile invece, questo posizionato molto meglio dal punto di vista logistico, che è l'ex agenzia delle entrate, su cui c'era quasi raggiunto un accordo prima dell'estate, che poi si è arrestato perché la provincia ufficialmente ha dichiarato di non avere le risorse finanziarie per poter fare un minimo di adeguamento dell'immobile e per sostenere i gani di docazione. Nelle settimane scorse il sindaco Bravi ha anche rivolto un appello agli imprenditori locali. Come amministrazione abbiamo pensato anche di smuovere un po' le acque perché sarebbe appunto una cosa quasi incomprensibile che per alcune decine di migliaia di euro enti come la provincia non riescano a trovare una soluzione. Qualche disponibilità ci sarebbe, però è tutta da costruire. E poi resta sempre un'anomalia che una scuola superiore possa andare avanti con i contributi generosamente donati da privati.